Ciao, sono Gustav Terni, benvenuti nel meraviglioso Circo Bianco che è la città di Bologna. Siamo qui oggi per presentarvi una delle discipline più dure dello sci invernale. Il biathlon, ecco la nuova pista di biathlon che sarà inaugurata nel 2020 qui a Bologna. Il biathlon consiste nello sci di fondo più la carabina, ovvero un bersaglio che è posto a 50 metri e io dovrò colpirlo. Alberto, tieni il bersaglio lì con le manine. Bravo Alberto, stai tranquillo, non ti colpisco, facciamo come Guglielmo Tell. Bravo Alberto. Guglielmo Tell, non Guglielmo Tell. Ignorante, non conosce la differenza con Guglielmo Tell. Guglielmo Tell era quello di Sasso Marconi. Guglielmo Marconi veniva chiamato Tell perché aveva scoperto il telefono. Ecco, ora è bravo, ora lo sai. Vai tranquillo. Sapete che cosa avete in comune tu e Guglielmo Tell? Guglielmo Marconi naturalmente. Che cosa avete in comune? Che tutti e due adesso avete la vita appesa ad un filo. Forza. Dai, sto scherzando Alberto. Su, stai tranquillo. Date una grattatina di strudel. Vai tranquillo. Al massimo torni da dove sei arrivato. Alberto, tomba, torna a baricella. Dai, pronto Alberto? Tranquillo. Stai tranquillo. Ecco. Il bersaglio è posizionato a 50 metri. Alberto! Alberto, tranquillo. È solo un graffio. Alberto! Alberto, è solo un graffio. Tranquillo. Non è successo niente. Ok, bravo Alberto. Alberto? Bene, aspetta qui. Io vado a chiamare la forestale. Aspetta qui. Quando arriverà la forestale, di che è stato Mesner. Va bene? Devi dire che è stato Mesner. Aspetta, siamo pronti ed efficienti per le Olimpiedi 2020. Alberto, aspetta lì.